Ma io ormai ci conosciamo appunto, lei faceva bene a ricordarlo da quasi sei anni, non ho mai guardato con molta affascinazione e attenzione alle statistiche, sia quando mi mettevano ultimo sia quando mi mettono tra i primi. Quindi le leggo come leggo tante cose che escono sui giornali, che tanti professionisti fanno, certe volte sono perplesso sui parametri che si utilizzano per queste statistiche che non mi convincono. Io penso che alla fine il lavoro premia, quindi la statistica per me che conta, il sondaggio che conta, il gradimento che conta è da un lato quello quando ti confronti in campagna elettorale, finora tre volte mi sono confrontato con gli elettori, tre volte ho vinto e quando vai per strada che c'è quel sondaggio quotidiano e capisci guardando la gente, vedendola negli occhi, sentendo le strette di mano per capire se le cose stanno andando bene o non tanto bene. Quindi mai mollare quando sembra che va tutto storto e mai adagiarsi quando sembra che va tutto bene. È chiaro che adesso Napoli e quindi anche il sindaco vivono un momento in cui il vento è favorevole. Questo vento significa per lavorare esattamente come facevamo quando il vento era contrario, però sicuramente si lavora un po' meglio quando le cose vanno meglio. Questo direbbe Catalano, un fatto molto scontato e molto ovvio.